Nel libro di Albert Camus la peste viene annunziata inutilmente dal sorcio che viene a morire ai nostri piedi. Non vogliamo essere inutilmente sorci che vengono ad annunciare la peste antidemocratica, violenta, anti-europea che a Roma, a Bruxelles e a Gerusalemme e a Parigi sta ormai facendo di nuovo disastri. Cappato ha già detto perché domani lasceremo i nostri lavori qui per accorrere a una lotta militante di resistenza europea e di resistenza democratica nel nostro paese. Facciamo i 30 anni di Parlamento europeo, se pensiamo a 30 anni fa c'è da preoccuparsi, noi lottiamo, non ci preoccupiamo. Grazie.